Tu prendi ossigeno da questa quercia, ma mi hai scavato dentro e ciò che vedi è solamente una corteccia, quindi per favore prendi tutto quello che mi resta, poi allarga lo sguardo, sono una foresta. Noi siamo Gli Over, una band indie pop rock di Lecco, ma siamo anche Martina, Simone, Cristian, Filippo e Mattia. Recentemente abbiamo pubblicato il nostro ultimo brano, si chiama Riflesso, ed è un brano con cui abbiamo voluto sperimentare, soprattutto intrecciando diversi generi musicali, tra cui il rap, che è un mondo totalmente inedito per noi. Questa canzone vuole essere un dialogo con le nostre paure più intime e profonde, ma anche un grido disperato e primordiale che si fonde con l'essenza più viscerale della natura, così protente e allo stesso tempo così fragile. Dove è reperibile il brano? Lo trovate su tutti gli store digitali, cercandoci come Over Tutto Qui. Riflesso fa parte di Tutto Qui, che è il nostro primo album, che abbiamo iniziato a pubblicare dall'aprile dell'anno scorso. Abbiamo pubblicato Euforia, Italiano e Madrid, Tu non sei, La mia città e infine Riflesso. Abbiamo deciso di pubblicare ogni pezzo singolarmente, per valorizzare la diversità di ciascuno. Il nome che abbiamo deciso di dare a questo album, ovvero Tutto Qui, racchiude l'idea dell'essere autentici, ovvero del metterci a nudo con le nostre canzoni, raccontare le nostre esperienze, raccontare le nostre emozioni, ma anche accompagnare il pubblico in un percorso che può portare a ritrovarsi. Dopo una lunga pausa data dalla pandemia, ora abbiamo l'opportunità di esibirci dal vivo. Abbiamo suonato al Blum di Mezzago e suoneremo il 18 giugno in piazza Garibaldi a Lecco, in occasione dell'evento Lecco Pride. Inoltre suoneremo anche in altre piazze della provincia. Il 25 giugno saremo a Sala al Barro, il 15 luglio saremo a Castello Brianza e il 16 luglio saremo a Vercurago. Ci siamo conosciuti ormai sette anni fa all'interno dell'oratorio estivo e è nato tutto un po' come un gioco, dopo è diventata una realtà solida e un progetto che continuiamo a portare avanti. È difficile per un gruppo di giovani portare avanti un progetto musicale di questo tipo? A volte è difficile incontrare un contesto che offra le opportunità che ai giovani servono per emergere, per farsi vedere con la propria musica e per condividerla soprattutto con il pubblico.